potrà pure essere vero non lo metto in dubbio ma dove stiamo arrivando ragazzi secondo voi sono igienici il latte di scarafaggio più nutriente di quello di mucca e potrebbe un giorno essere la nostra colazione quindi faremo colazione con latte di scarafaggio poi pranzo con le cavallette e alla sera ci faremo un bel topo fritto che ne dite vi piace come menù dai chi offre di più ditemi cosa ne pensate e quali altri alimenti mettereste